Finisce in parità il derby tra Taranto e Cerignola, lo Iacovone, tante recriminazioni per gli ospiti che dilapidano il doppio vantaggio iniziale con le reti di Rodriguez e Sansone, ma gli ospiti reagiscono perentoriamente, agguantando il pari grazie alla doppietta di Favetta, autentica bestia nera dei giallo-blu, il Taranto si modula con il 4-4-2 in attacco il neoacquisto Olcese, il Cerignola invece si presenta con il 4-2-3-1, pronti via e gli ospiti segnano, De Cristofaro lancia Rodriguez che scatta sul filo del fuorigioco e la mette in rete per il vantaggio del Cerignola, all'undicesimo il Cerignola raddoppia Marotta, crossa dalla destra, Rodriguez colpisce di testa Sposito respinge, Sansone raccoglie e insacca, il Taranto reagisce al ventiduesimo, Cucurullo dal fondo ispira la girata vincente di Favetta che batte K, i rosso-blu prendono coraggio e ci provano con Stefano Manzo da fuori aria, K devia in angolo, nei minuti di recupero il destro di Guaita viene bloccato da K, il primo tempo finisce con il vantaggio per 2-1 del Cerignola, nella ripresa girandola di sostituzioni ma gli attaccanti non pungono, il Taranto sfiora il pari negli ultimi scampoli di gara a solo Di Cucurullo che entra in aria ma il suo tiro da posizione decentrata termina a lato, al 44esimo il Taranto usufruisce di un calcio di rigore, Rosania commette fallo su Favetta e l'arbitro decreta il penalty, dagli 11 metri Favetta si fa ipnotizzare da K che respinge ma Benvenga raccoglie e la mette in rete per il 2-2 finale e il primo pari in campionato dei rosso-blu.